Allora, come stavo dicendo nella live che avevo iniziato, insomma è durata due minuti laggando tra l'altro, come ho detto nella live appunto io volevo fare una live stasera con contenuti un po' più importanti e su tutto un altro tipo di discorso, che faremo domani. Poi mi sono vista costretta dopo aver visto tre, e dico tre, video della dama contro osservatore dove si nominava molte volte, moltissime volte mia figlia, mi sono vista costretta adesso a fare il video, volevo fare la live ma non è stata cosa. Allora io voglio capire il perché sono giudicata tutti i giorni, tutti i giorni da non so quanti canali, sul fatto che io nomini mia figlia, mio figlio, che ripeto sono miei, sul mio canale, però devo sentire nominarla in canali dove comunque non la rispettano, che la usano solo per darsi contro. La damanera stasera un'altra volta, circa tre settimane fa, che vi chiesi il favore appunto di andare sotto la sua live a dire togli questo video dove parli della bambina e lei non solo non sentiva niente, non leggiva niente, disabilitò i commenti, il video sta ancora da là e oltre a quello sta continuando a nominare mia figlia. Qui non si tratta di essere permalusi o cosa, io pretendo, esigo che mia figlia non si venga nominata per scopri di litigi da condominio. Inutile prendere una posizione tra il suo litigio e quello di osservatore perché altrimenti mi si viene detto, eh vabbè tu parli così, perché adesso con lui ti ci sei chiarita? No, assolutamente, io e adesso non siamo. Amici, non lo saremo mai e ho mostrato già diverse volte di difendere chi mi stava contro, come quando la dama fece una live omofoba nei riguardi dell'osservatore ed io nonostante avesse fatto schifo nei miei riguardi presi le distanze da quella live. Perché sì, madama, tu sei omofoba, tu sei ignorante, tu sei un opportunista e opportunista la voglio sottolineare perché ogni volta che c'è da dare più ragione ai tuoi attacchi nei riguardi dell'osservatore, tu nomini mia figlia. Allora, come dicevo oggi nelle stories di Instagram, se tu con l'osservatore ce l'hai per quella cosa, ammettiamo che tu non finga che sei trafitta da questa cosa imperdonabile che ha fatto la mia figlia, ammettiamo che tu veramente, facciamo finta che tu veramente, tenga alla memoria di una bambina che non c'è più e si è arrabbiata con l'osservatore per quello, ha chiesto scusa a me che sono la madre, non tirare più in ballo questa discussione. L'ho detto moltissime volte, non devi nominare mia figlia. Le tue ragioni per avercela con l'osservatore sono talmente futili che ti senti in diritto e ti arroghi il diritto di nominare mia figlia tutte le volte che devi dare addosso a quel ragazzo. Innanzitutto ti dovresti proprio vergognare perché è un ragazzo che potrebbe essere tuo figlio. Un ragazzo, tu stai ritirando con lui che ha 26 anni ed offendi la madre, il padre, lo chiami invertito, ma veramente ti ascolti, ti ascolti. E riguardo quel commento che è stato scritto addosso, io non credo né che se lo sia scritto lui da solo, ma nemmeno che l'abbia scritto tu, a parte perché tu a quell'italiano non ci arrivi, anche se non è un italiano corretto, tu non scrivi così, ma lasciamo stare. Però tu in una live oggi hai asserito nella stessa frase che quel commento tu non lo biasimavi perché magari è stato fatto per difenderti. Ma ti rendi conto di quello che stava scritto là dentro? Come fai a dire che non sei omofoba nella stessa frase se avvalli quello che viene scritto in quel commento, ovvero che Fabrizio è un malato perché è gay? Che Fabrizio probabilmente non avrà mai una famiglia perché è gay? Che Fabrizio probabilmente non sarà mai felice perché è gay? Come fai ad avvallare un commento del genere e nella stessa frase asserisci di non essere omofoba? Lo sei, sei ignorante e credimi, qua lo dico e qua non lo nego. Tu probabilmente molto peggio dichiara, anzi la ridico la frase correttamente, per quanto mi riguarda tu più dichiara non dovresti stare su youtube, non ci dovresti essere perché una donna che lancia quei messaggi deve tacere può parlare così solo con quell'ignorante di tuo marito e io ringrazio il buon dio che tuo figlio non cresca con te e oggi capisco il perché, oggi capisco perché diciamo qualcosa perché c'è molto di più sotto per toglierti un figlio ma nella stessa casa con te un minore non può sentire queste porcate, non le può sentire perché è un potenziale bambino che un giorno va a scuola e fa bullismo verso chi? Per lui può essere diverso, magari anche un bambino autistico, tu fai paura. Io non so più come dirtelo, da ma devi smetterla di parlare di mia figlia, devi smettere di fare finta di prenderle le difese per avvalorare la tesi di essere migliore di osservatore, non lo sei perché quel ragazzo ha tutta la vita davanti per migliorare, tu capra sei e capra rimarrai se a 60 anni ragioni così pur avendo l'età di essere persino nonna. Mi sa che è quello che non ha margine di miglioramenti, sei tu, sei tu, non osservatore, lui ha tutta la vita avanti per maturare, tu no, tu così ci muori perché sei ignorante e attenzione sei anche cattiva perché chi è ignorante può sempre imparare, tu c'è quell'ignoranza vista a cattiveria che ti fa dire delle cose immonde, tu è quello che ti sta accanto e ripeto un bambino in casa tua non è idoneo, non sei idonea a fare la mamma. io non so più come dirtelo, te lo dico per l'ultima volta, non nominare più mia figlia per i tuoi sporchi scopi perché veramente tu che dici io ero sempre attaccata, tu non hai idea tu non hai idea di come ti possa fare io e c'è tanto da dire senza nemmeno offenderti tanto tu ad ogni live che apri daresti tante di quel materiale che potremmo aprire dieci canali dieci persone diverse e avremmo di che mangiare smettila di parlare di te in terza persona hai 60 anni ah tu dici 55 lo stesso come quando dicono a me che ho 40 anni io mica me la prendo svegliati svegliati hai tutta la maturità per dire osserva tu fotte cazzi perché alla fine quello non ti fa niente di che ne ha fatti errori in passato ma adesso adesso al momento non vedo che ti stai insultando ti stia insultando pesantemente anche se ripeto quel messaggio secondo me non l'hai scritto tu però comunque tu hai condiviso quel messaggio dicendo e magari è uno che si sarà rotto il cazzo e vi vuole difendere ma veramente fai veramente io sono una mamma di 37 anni quindi molto più giovane di te osservatore mi sta sul buco del culo forse probabilmente più di quanto sta sul culo a te ma mi sognerei di dire che quel messaggio che ha ricevuto sia un messaggio giusto e meritato perché magari caga il cazzo chiudo questo video dicendoti per l'ultima volta cresci e smettila di nominare mia figlia in quella fogna di canale ed è l'ultima volta che te lo chiedo che ci sono